Ciao a tutti, oggi voglio presentare questa box Cacao is the new coffee da parte dell'azienda Life Better. Questa azienda è stata fondata nel 2017 e va a creare degli alimenti sani e gustosi. In particolare va a creare dei benefici per il nostro corpo e questa box, grazie ad Elena, va a creare quella sorta di bevanda che noi prendiamo nella macchinetta o comunque nei bar come sostitutivo del caffè, però ovviamente questo è il migliore, proprio perché va ad utilizzare degli elementi sane e più gustosi. Quindi vi mostro questa box, che ringrazio l'azienda Life Better, che potete trovare qui sotto, vi lascio il link, nello shop online, a un prezzo modico, che comunque adesso vedrete cosa c'è all'interno, troverete tutto il kit per poter realizzare questa bevanda, il ciocchino, a casa vostra. Volevo ringraziare anche per queste frasi che mettono all'interno del pacco, in questo caso qui dice che la fortuna aiuta gli audaci, queste sono delle frasi motivazionali fantastiche che troverete all'interno di ogni pacco. Bene, adesso apriamo la nostra box. Allora, ecco qua la nostra box, si presenta in questo sacchettino, apriamo da qui, e troviamo all'interno, ecco qua, ecco qui all'interno, che si può trovare, ecco qua Elena, che è colei che comunque ha creato questo ciocchino, ma anche è la fondatrice di Life Better di questa azienda. Questa bevanda ciocchino è comunque va a donare energia, è meno aggressivo del caffè, quindi il suo effetto dura più a lungo, infatti appunto è un sostitutivo del caffè. Grazie ad Elena, adesso andremo a creare questo ciocchino direttamente a casa, io non vedo l'ora, perché grazie al latte di cocco e al cacao, andremo a creare questa favolosa bevanda. Qui comunque ci sono tutti i vari passaggi, ovviamente bisogna usare acqua bollente, e andiamo a vedere all'interno. Ok, qui è il latte di cocco in polvere, 97% di cocco, quindi già ottimo, e qui comunque va ad esserci gli ingredienti per poter realizzare il nostro ciocchino, davvero ottimo. Poi all'interno abbiamo anche il cacao in polvere, biologico, quindi perfetto. Perfetto il cacao, che si sa dà molta energia, pinato al latte di cocco, è favoloso. Poi abbiamo qui il montalatte, eccolo qua, mamma mia, è fortissimo. Ok. Poi all'interno troviamo questo di qua. Ecco, questo è il contenitore dove si andrà a mettere il latte in polvere e anche il cacao, e in vetro, quindi è abbastanza ottimo, non è in plastica, e qui comunque va a determinare, aspetta che così non vedete. Qui andate a vedere le dosi perfette, quindi per esempio per un espresso, per un doppio, insomma tutte le misure, quindi così vi potete dosare anche di latte e di cacao. Infine c'è anche il misurino. Ricapitolando, qui abbiamo il contenitore da poter fare il nostro ciocchino, qui mettiamo in base a ciò che vogliamo realizzare l'acqua, la quantità dell'acqua, poi aggiungiamo il cacao grazie comunque al misurino, che deve essere il raso, e quindi dipende appunto da quello che vogliamo fare, per esempio per un espresso mettiamo un misurino, o per un doppio, due misurini, insomma in base a quello che vogliamo realizzare, quindi ci dosiamo. Poi dopo di che dobbiamo immergere il montalatte, quindi in questo caso questo, e azionarlo per 5-10 secondi, più misceli, più ovviamente otterrà più schiuma. Quindi così abbiamo realizzato il nostro ciocchino. Quindi abbiamo oltre al ciocchino, abbiamo altre alternative, ovvero di fare il ciocococco, che questo è base a livello di espresso, oppure possiamo fare il cioppuccino. Quindi io voglio ringraziare, l'azienda Lifebeater, e non vedo l'ora, grazie ad Elena per questo kit, non vedo l'ora di poter realizzare questo ciocchino, direttamente a casa, e far vedere comunque a tutti i miei follower, come è semplicissimo poterlo realizzare, con semplici ingredienti, ma soprattutto sani e genuini. Grazie ancora. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.